Dopo giorni di primavera inoltrata è tornato il gelo, è tornato il freddo, è quello stesso gelo che molti di noi stanno provando in questi giorni vedendo la scomparsa di tanti amici, conoscenti, parenti e quello che sta accadendo è che la morte da fatto privato, da fatto che pensavamo di poter avere eliminato dalla nostra vita grazie alla medicina, alla scienza, la tecnologia ridiventa un fatto pubblico, un qualcosa con cui dobbiamo avere a che fare ogni giorno in maniera drammatica, è il segno del limite, il limite che caratterizza la vita dell'uomo e che troppo spesso pensiamo di poter eliminare, ma la morte di conoscenti, amici, parenti per noi di azione cattolica, ad esempio la morte di Don Franco Carnevali che per anni ci ha accompagnato e che tuttora era un riferimento per molti di noi, beh significa scontrarci con una realtà drammatica, pensavamo di poter essere più forti della morte, di poterla esorcizzare ed eliminare, così non è. Eppure la nostra fede ci dice che la morte è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, soprattutto in questo periodo di quaresima che ci prepara la Pasqua, noi siamo chiamati a entrare a contatto con la morte per vincere la morte, non per eliminarla, anche la vicenda di Gesù ci dice questo, è difficile, è difficile ma è necessario, è necessario a partire da che cosa? A partire dalla preghiera, preghiera che ci consente di andare oltre, di rinsaldare i legami anche in questi giorni di isolamento, ci consente di creare speranza anche laddove la speranza sembra non esserci. E poi cosa vince la morte? L'amore vince la morte ci dice il Vangelo, amore che Don Franco ha seminato a piene mani nel corso della sua vita, amore che noi siamo chiamati a raccogliere e a spargere, a costruire di nuovo per un futuro che non sia di morte ma sia di risurrezione. E allora salutando in questo modo Don Franco vogliamo ricordare a ciascuno di noi che nella preghiera, nella condivisione possiamo creare quella comunione che è comunione dei santi che ci permette anche in questi giorni di costruire una speranza anche laddove la speranza sembra non esserci più.